Bene, eccoci. Ciao. Sono in versione campagna. Questa è la nostra fattoria. Questo è un muro, un muro bianco. Come vedete non ho potuto portare la mia biblioteca. E perché qui è un altro mondo proprio, un altro mondo. Qui non c'è niente, solo risaie, campagna, niente. Però è interessante perché c'è un sacco di terreno. Se voi volete venire ad abitare qui non c'è nessun problema. Il terreno è gratis, con pochi soldi vi costruite una capanna fatta bene, è bella. Con il vostro bagnetto, con tutto quello che volete. E poi state qua, state qua. Se il mondo occidentale continua a dare i numeri siete tutti invitati a stare qua. Non c'è niente però. Non c'è un cinema, non c'è un teatro, non c'è niente. Forse domani vi faccio una diretta della campagna, vi farvi vedere un po' qui com'è. Però non è un gran spettacolo, non è che non pensate che vi faccio vedere sa che cosa. Però qualcosa, così per chi si sa mai, qualcuno di voi che fosse interessato. Certo che è difficile e dura andolare tutto e andare dall'altra parte del mondo. Anche perché poi ci sono delle controindicazioni, non è facile avere un visto. L'ospedale più vicino è comunque quasi un'oretta, certo. Quindi avere fiducia nelle proprie capacità, nella propria salute. Insomma, in Occidente le cose sono più semplici per certi aspetti. Però almeno qua l'aria è pulita, da mangiare ce n'è per tutti, riso, aiosa, verdure, frutta. Poi noi abbiamo anche i polli, abbiamo i pesci. Tra l'altro siamo arrivati qualche giorno fa e i pesci si sono moltiplicati. Ma, ma, ho capito bene come funziona questa cosa. Adesso devo provare a cambiare l'acqua in vino. Non ci ho mai provato, però non si sa mai. Infatti che poi il vino non lo bevo. Forse è meglio che lascio l'acqua a... Va bene, a parte questa piccola parentesi, così abbiamo aspettato anche gli ultimi ritardi a dare. Continuiamo a parlare quindi, se non proprio dell'angioletta del diavoletto, comunque della luce, dell'ombra, come agiscono all'interno del nostro mondo. Come agiscono dentro di noi, come agiscono nel mondo esterno. E oggi, come avete visto ieri che vi ho fatto un annuncio, volevo parlarvi dei metodi di guarigione luminosi e oscuri. Qualcosa vi ho già accennato, ma veramente poco. Sappiate che questo punto è fondamentale, perché Gesù dice, nel Vangelo naturalmente, dice verranno falsi profeti in grado di operare false guarigioni e tali da trarre in inganno persino gli eletti. Quindi guardate bene. Adesso che la maggior parte di voi frequenta entrambi i corsi, quindi sia il corso base questo che il corso avanzato, e penso che la maggior parte di voi cominci ad avere un'idea più chiara di che cosa corrisponde, di che cos'è questo mondo degli eletti, insomma. Abbiamo cominciato a vedere che, quantomeno questi eletti, da un certo grado in su, incominciano a vivere nel mondo reale, incominciano a vivere nel tempo reale. Quindi, se questi falsi profeti sono in grado di trarre in inganno anche gli eletti, c'è da chiedersi se noi riusciremo a riconoscere le differenze, se riusciremo a cogliere. Perché sapete, la grande, la bellissima caratteristica dell'uomo, la sapete che chiamiamo i sistemi oscuri, perché imparo molto, mi piace molto osservare come gli oscuri, chiamiamoli così, io spero che mi capiate questo termine oscuri, perché sennò non posso tutte le volte ricominciare da capire. Per gli oscuri si intende un mondo, un mondo che lavora in questo periodo evolutivo per il rallentamento dell'evoluzione. Come vedete, in ciò che capita tutti i giorni, siamo a un bivio, questo è evidente, non ve lo fate ripetere. E questo bivio è il punto di intersezione tra un vecchio mondo, che conoscete benissimo e che non vi voglio descrivere, perché è sotto gli occhi di tutti, e il nuovo mondo che... Quello invece ho provato a descriverlo e ci proverò ancora, perché uno dei più rossi handicap che noi abbiamo è quello di immaginare un mondo nuovo che è farlocco molto spesso. Per cui se immaginiamo un mondo farlocco, beh, pensiamo tutti di essere già partecipi di questo mondo, ma non è così, ve l'ho fatto vedere. Ci sono tanti meccanismi, tanti aspetti sui quali lavorare, sui quali impegnarsi per poter entrare nel mondo nuovo, questo lo avete capito. Poi le regole non le faccio io per fortuna, non le faccio io. Esiste un aspetto della divinità, chiamiamola così, un'emozione superiore che si chiama misericordia, la misericordia. Ho avuto modo di assaggiare la misericordia ed è veramente qualcosa di molto, molto strano la misericordia. E cioè è quella capacità di vedere solamente gli aspetti positivi e costruttivi di qualunque essere umano. La misericordia è veramente una figura angelica, una figura del creatore, a braccia aperte, in grado di accogliere qualsiasi essere umano, indipendentemente, assolutamente indipendentemente dal tipo di vita che ha compiuto. E cioè la misericordia è quella capacità di mettere la propria attenzione su una cosa, su una sola cosa, ma quella è importante, quella che ci ha fatto comunque crescere, perché non esiste vita terrena, anche la più disperata, anche la più cattiva, chiamiamola così, che non contenga in sé dei semi di crescita. Non esiste. Vi faccio un esempio, veramente non prendete male quello che mi dico. Aspettate sempre, riflettete sempre sulle cose. Per esempio, si dice che Hitler amasse molto i suoi cagnolini. Boh, ok, avete capito cosa voglio dire. Non voglio entrare in questo argomento. Voglio solo dire che la misericordia è la capacità, guardate un po', guardate un po' che meraviglia, di mettere l'attenzione su quell'aspetto, eliminare tutti gli altri. Perché ve lo dico? Perché è una cosa che per me non ha senso, no? Ci sono delle cose che per me non hanno senso, che appartengono alla logica spirituale, che è proprio un altro mondo, completamente un altro mondo. E vi auguro di assaggiare la misericordia, anche se si può assaggiare, se ne può sentire il sapore, sembrano cose poetiche che vi dico, ma sono molto precise. Se ne può proprio assaggiare il sapore. Ci sono delle cose che accadono ogni tanto, se siete attenti, potete cogliere degli aspetti dell'esistenza che altrimenti passano completamente inosservati. Perché tutti quanti noi abbiamo in embrione tutte quante le emozioni superiori. Vi ricordate cosa sono le emozioni superiori? il perdono, la tenerezza, la compassione, l'affetto, l'amicizia, tutte queste cose che vedremo un po' alla volta una per una per cercare di inquadrarle bene nel cospetto della logica spirituale. La misericordia è una cosa che è impensabile per noi. È impensabile che arrivi un criminale o qualcuno che ha ammazzato gli altri, qualcuno che arriva e sei tu a giudicarlo e vedi solamente quei momenti di tenerezza, di affetto che ha dedicato a una persona, a una situazione, un momento di commozione, è fantastico, però per noi è comprensibile. Esiste per esempio nella nostra cultura cristiana, esiste una cosa, un aspetto, un concetto che è incomprensibile anche quello ed è quello della remissione dei peccati, la remissione dei peccati. E cioè, non si sono ricordate, si andava al confessionale, si diceva al parroco, si diceva, guarda, ho fatto questo, ho fatto l'altro, mi sono comportato male, ho detto qualche parolaccia brutta, mi sono toccato il pisello, una volta era così, bisognava proprio dichiarare tutte le cose, tutte le cose che allora erano considerate non buone, insomma, non morali, non conformi a una certa morale. E allora bisognava dichiarare tutto, ho fatto questo, ho guardato il sedere la vicina, poi ho rubato un uovo al vicino, un po' tutte queste cose qua. E il parroco, il sacerdo da volte ci diceva, va bene, va bene, una volta era così, adesso non so più, adesso è un po' cancivato, però una volta diceva, va bene, tre padri nostri e due amè Maria. E' fantastico. Per cui si usciva al professionale e poi mi diceva, 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 è già finito e questa era la remissione dei peccati, magari per i bambini andava anche bene. Ma la domanda che noi un po' sgamati, un po' diventati adulti ci potremmo fare è questa, ma come fa a funzionare una cosa del genere? No? Ma se il mio peccato è grosso, mi sto raccontando una favoletta, quindi adesso la parola peccato non la voglio vedere, prenderla così, così intanto la chino. Ma se il mio peccato è grosso, com'è possibile che mi venga data una soluzione? Per esempio, si parla anche della soluzione in punto di morte, è un po' lavoro la soluzione in punto di morte. Cioè, ascolta bene, se tu ti penti in punto di morte, la tua vita di peccatore è cancellata. È un casino, no? È un casino perché implica un concetto di ingiustizia a volte, perché dici, ma allora se quando io crepo o sto per crepare c'è un sacerdote vicino e gli dico guarda, mi pento di tutto, mi pento di tutto, lui ti dice mi do la soluzione, vai in pace, e noi siamo in posto. E quello che invece non ho la fortuna di avere qualcuno che lo assolve è quello si tiene anche i peccatucci piccoli piccoli, qualche parolaccia, qualche invidia, qualche gelosia, si attiene tutte. Ma come funziona questa cosa? C'è effettivamente, esiste questa cosa? Guarda, esiste sì. esiste sì, esiste, e quello un po' alla volta, è uno degli aspetti che un po' alla volta vi vorrei fare osservare della logica spirituale, perché la logica spirituale non funziona come la logica teoria di estero. E Gesù funziona nella logica spirituale, quello che fa non ha mai senso, sono sempre delle cose che sembrano senza senso, che non si capiscono. Allora, la misericordia è questa, la misericordia è la capacità di mettere la vostra attenzione solamente sulla bellezza di ogni persona. Direi che è qualcosa di sovraumano, no? È qualcosa di troppo grande. Infatti, si parla poco della misericordia, si parla molto di lavorare sul perdono, per esempio, di coltivare la compassione, anche se lo vedremo più in dettaglio cosa significa questa compassione, perché in Occidente la compassione è una cosa molto strana, però noi in Occidente possiamo non essere il perdono. Se vi parlo di amicizia, di tenerezza, tutti quanti lo conoscete. Si può lavorare sulla tenerezza? Certo, si può farlo, ma sulla misericordia dura, è dura, non vedere più tutto ciò che è oscuro per le persone e vedere solamente quei punti di luce. Eh, bene, allora, in quella storiera che leggeremo oggi, che è un passo quindi del Mangio di Giovanni, vedremo un po' come viene operata questa guarigione e incomincieremo a vedere come esistono delle regole diverse tra coloro che si muovono nell'ambito della luce e coloro che si muovono nell'ambito dell'oscurità. Ieri, tra l'altro, ho visto una domanda passare, ogni tanto guardo quello che succede e qualcuno chiedeva ma è possibile che un numero 5 possa passare nella patta oscura, no? Estremamente interessante. Sarebbe un argomento da corso avanzato ma sono ormai più o meno tutti siete con un piede da una parte e un piede dall'altra quindi non fa niente poi prima o poi vi ascolterete tutto quindi faremo di questo sistema ma comunque sì, certo qualche cosa di più semplice nel corso base qualche cosa di più profondo di più avanzato nell'altro corso su questo non c'è dubbio questo lo faremo però vedremo vedremo come come anche i numeri 5 se i numeri 5 possono dedicarsi all'ombra cosa vuol dire dedicarsi all'ombra? A un certo punto significa significa è fare una scelta esistenziale fare una scelta esistenziale e cioè scegliere la via oscura perché questa via oscura dà dei vantaggi e evitare la via luminosa perché la persona ha l'impressione che dia degli svantaggi ecco non può dire qualche parola su questo prima di continuare sull'aspetto perché bisogna anche capire bene cos'è la luce cos'è l'ombra come si muovono anche se non basterà il tempo che abbiamo a disposizione oggi per vedere tutti i particolari però poi alla volta ne vediamo qualcuno in modo che tra qualche incontro incomincieremo a avere un'idea più vasta come può un essere umano normale come noi per esempio a un certo punto scegliere la via oscura è possibile che il numero 5 scelga questa via oscura vediamo un po' come funziona intanto chi è che sceglie la via oscura sceglie la via oscura chi è stato manipolato da Matrix fin da bambino questo è chiaro e cioè nel mondo nel quale viviamo se capitiamo in una famiglia dove non ci sono valori dove non c'è un'etica dove non c'è una conoscenza approfondita di sé dove non c'è una conoscenza dell'anima del mondo dell'anima del mondo della spiritualità beh noi cresciamo tutti quanti con delle idee che sono completamente false e quindi quali sono queste idee le idee sono che la vita vale la pena di essere vissuta se uno si arricchisce se uno possiede delle cose se uno se uno ha quello che vuole dal punto di vista della personalità questo è evidente perché se non c'è la cultura dell'anima evidentemente tutti quanti noi cercheremo di realizzarci questo è lo scopo della vita però ci sono due modi per realizzare se stessi quello luminoso è quello scuro quello spirituale è quello legato alla materia è semplicemente così ricordate che noi viviamo in un mondo che è su quel sistema di addomontamento questo ormai ve ne siete accorti in questi giorni in questo caos in questo momento evolutivo è facilissimo vedere come funziona siamo proprio all'interno un caos planetario dove c'è proprio la lotta tra coloro che aspirano alla realizzazione animica spirituale e coloro che non hanno neanche l'idea che esista un mondo spirituale che lo contrastano e che quindi hanno l'idea che il mondo che vedono intorno a loro sia il mondo reale questa è un po' anche la nostra storia se ricordate perché siamo cresciuti tutti siamo cresciuti tutti in questo sistema e cioè ci hanno insegnato già nella scuola a avere dei punti di riferimento che sono anche non terrestri un giorno avrai l'automobile un giorno avrai la casa la villa la piscina queste cose qua quindi ci sbattiamo ci sbattiamo per ottenere le cose che vogliamo fino a quando nasciamo il mondo spirituale questi sono i numeri quattro ricordate i numeri quattro sono nati nascono nel mondo spirituale per tantissime ragioni per tantissime ragioni perché può essere qualcosa che abbiamo acquisito nel tempo nel tempo remoto e che improvvisamente risorge ad un certo punto di vista si chiama ricapitolazione si ricapitola all'interno di sempre ad un certo punto ci guardiamo intorno e diciamo io non mi riconosco in questo mondo ed è chiaro che tutti quanti voi che fate questo tipo di lavoro è evidente che vi siete svegliati da quel punto di vista che siete nati in modo spirituale questi sono i numeri quattro che incominciano a chiedersi se c'è qualcosa di più è un po' la volta questo qualcosa di più appare sempre più reale per il numero 5 dal 5.4 in su il 5.4 incomincia a vivere nel mondo reale e cioè incomincia ad accorgersi che le storie raccontate nell'induismo nel buddismo nel cristianesimo sono reali e cioè che effettivamente esiste un mondo vero intorno a noi che si incomincia a toccarlo a vederlo ad ascoltarlo questa è un po' la nostra storia noi stiamo lavorando per entrare in questo mondo nuovo in questa visione nuova del mondo noo